Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Marco Rossi non è più un signor Rossi qualsiasi. L'ex tecnico della Cavese è tra i 24 CT che partecipano al campionato europeo itinerante. Guida infatti l'Ungheria ed è inserito nel girone di ferro che comprende anche Francia, Germania e Portogallo. Alzi la mano chi si sarebbe immaginato dieci anni fa che dopo la brutta stagione di C1 trascorsa alla guida dei Metelliani, il mister si sarebbe poi rilanciato fino ad arrivare a una grande manifestazione. Probabilmente nessuno. Rossi era stato infatti esonerato dal presidente Spatola dopo il quarto pareggio consecutivo. Contro il Taranto, il gol dell'1-1 definitivo dei pugliesi era arrivato con la Cavese in superiorità numerica, fatto che spinse molti tifosi a contestare il mister. E i bianco-blu erano ultimi, anche se gravati da una penalizzazione per irregolarità amministrative commesse dalla precedente proprietà. I tecnici che presero il posto di Rossi non riuscirono a salvare quella Cavese, che nonostante le presenze delle bandiere da Mico, Schetter, Alfano e Cipriani, finì in C2. Di Rossi si ricorda la meticolosa attenzione tattica. D'avversario della Cavese, quando guidava la Pro Patria, incollò Candrina, un destro adattato a sinistra, sulle piste di Nazareno Tarantino, attaccante Mancino che giocava a destra. Mentre la maggior parte delle squadre avevano cominciato la preparazione a luglio, Rossi iniziò con la Cavese ad agosto, rimanendo in Campania tra l'altro, a Telese. E comunque la squadra fu in grado di recuperare in parte i gap. E soprattutto il mister ebbe la tempestività di adattare il modulo alle caratteristiche della propria squadra. Dopo un inizio col 3-4-3, passò subito al 4-3-3, perché probabilmente i giocatori si trovavano meglio in tale assetto tattico e arrivarono diversi punti. Rossi ebbe un rapporto cordiale con i giornalisti di Cava, a parte un isolato episodio. Una volta il mister lasciò la sala stampa dopo un acceso scambio di vedute con un giornalista, con il quale tuttavia poi ci fu il necessario chiarimento. Ma ciò era accaduto perché il tecnico torinese era uno che difendeva le proprie scelte fino alla fine. Ma sul campo Rossi lavorava, tanto che in febbraio ripropose la difesa a 3 per la Cavese e alle volte si affidava anche alla pretattica, avendo chiesto agli stessi giornalisti di Cava di non dare indicazioni sul tipo di modulo che avrebbe adottato contro la Ternana. Dobbiamo decidere se il vertice lo facciamo basso o alto, si limitò a dire. E alla fine la scelta fu 3-5-2, con un mediano adibito alla marcatura del trequartista dei Rossoverdi, Angelo Nollè. Ieri i suoi avversari erano Tarantino e Nollè, Oggi il portoghese Cristiano Ronaldo, sabato ci sarà Agi 7, il francese Antoine Griezmann e poi mercoledì 23 l'astro nascente tedesco Kai Havertza. Per passare il turno all'Ungheria di Rossi potrebbero bastare 4 punti, ma con una differenza reti che sia favorevole. E considerato il valore degli avversari, non sarà una cosa semplice, potrebbe essere una specie di miracolo. E quanti cavesi seguiranno con curiosità i Magiari, che senza il regista Soboslai punteranno sul fantasista Nego, sul centrocampista Nodj e se avrà la possibilità di giocare anche sull'attaccante Varga, ex Foggia. Tutte le partite degli ungheresi si giocheranno a Budapest e i biancorossi avranno il tifo a loro favore.